Non ci vedo assolutamente nulla di impossibile e mi sembra una proposta assolutamente condivisibile e per quanto si potrà provare a farlo direi che possa essere una strada da intraprendere. Non dispiace all'assessore comunale del commercio Serena Tonell l'ipotesi, nata a Telequattro nel salotto di Ring, di un ristorante stellato a Miramare. Un'idea suggestiva che potrebbe solleticare molti altri interessi. Trieste con la sinergia delle istituzioni e degli investitori privati sta lavorando per fare di Trieste una meta di turismo d'alta gamma puntando sull'eccellenza della ristorazione con strutture ricettive di alto livello ma mi riferisco anche al settore della nautica con tutti i servizi per il segmento luxury dell'accoglienza di yacht e di imbarcazioni di questo genere. Sono tante le idee che via via saltano in mente per una location come quella di Miramare, senza dimenticare che un certo tipo di turismo potrebbe svilupparsi a Trieste solo in virtù del fatto che a Miramare ci sia un ristorante stellato. Come location per lo svolgimento di cerimonie e di matrimoni potrebbe essere un'idea. Trieste ha tantissimi luoghi appetibili da questo punto di vista. Sappiamo bene che gli appassionati di gastronomia e enogastronomia di eccellenza sono disposti ad averla proprio come scopo unico della visita. Addirittura è calcolato che quasi il 60% del turismo deriva da scelte legate all'enogastronomia e quindi credo che sia assolutamente una buona strada quella di investire proprio sull'eccellenza della ristorazione ma anche appunto della valorizzazione di tutta la filiera agroalimentare che fortunatamente abbiamo sul territorio.